Cortina ha rischio di tentativi di infiltrazioni mafiose. I giochi olimpici e paralimpici di Milano e Cortina del 2026 sono un'occasione ma anche un rischio e sono al centro dell'attenzione del appena insediato nuovo comandante dei Carabinieri. Bisogna essere preparati a un obiettivo importante per la comunità, per la provincia e per Cortina. Il nostro obiettivo è sempre quello di essere un'interlocuzione per i cittadini, per le brave persone, di esserci e risolvere i problemi. Tenendo a mente l'obiettivo delle Olimpiadi che è un obiettivo che tra quattro anni coinvolgerà tutta la comunità cortinese e della provincia di Belluno. È importante arrivare preparati, informati e sapere che cosa succede da qua al 2026. Preoccupazioni emergono anche nella relazione al Parlamento della Direzione Investigativa Antimafia per il 2021. Il Veneto potrebbe essere oggetto di attenzione da parte della criminalità mafiosa cui interessa infiltrarsi nei canali dell'economia legale tanto attraverso il riciclaggio e il reimpiego di capitali illeciti come negli appalti delle risorse pubbliche. Tra queste, particolare attenzione, precisa la DIA, è richiesta per la prevenzione di probabili tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei lavori pubblici necessari per i prossimi giochi olimpici e paralimpici di Milano e Cortina del 2026. Grazie a tutti.